Ha fatto, ha fatto di volante il mio campiato Mannaggiala Multatemi, multatemi Ma non tenuto, non tenuto Mi piace la schiena Mattia No, mi piace Eh, dai, c'ho fisura Oh, non mi lo mette in triggerà, regà Ogni tanto lo senti La sboccata d'ossigeno Mattia, cambia a spettatore Facile Che si è qualificato? No, sono caduto Allora, ragazzi miei Adesso voi Vi dovreste scaricare questo gioco Per videogiocare insieme Se potete, il gioco Potrebbe un po' incattivirvi, ok? Cercate di magari Eh, resiste un po' Cioè, hai capito? Ce la fate? Allora, il gioco è simile a un'idea Ok? A una concezione Al potercela fare Potercela fare che vuol dire? Eh, potercela fare vuol dire anche Abbattere i perigli e gli obiettivi Che troverete nel vostro cammino Per chi è cinese? Chi è cinese? Ah, io so cinese No, 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 no A parte il fatto, Ben, che non è cinese Ma è giapponese E che devo parlare? Dobbiamo fare una partita personalizzata E dovete entrare dentro Il massimo dei player è 32 Che sono sicuro Sponeremo sicuramente Quello che vince, vince una sub Giocare è semplice È intuitivo Dovete zombare Zombate E arrivate al traguardo E vincete la partita E conquista la sub Ragazzi miei Per partecipare Di come si fa per partecipare Oh regà La posta in gioco è alta Allora ragazzi Potete scaricare il gioco Il gioco c'è sia da browser Da telefono IOS Android Windows Ci sta su Xbox Ed è in arrivo Anche su Nintendo Switch Ho capito regà Ma ormai c'è Mi fai parlare più E ragazzi Tra l'altro Se andate sul sito Di StumbleGuys Avete la possibilità Di riscattare Un'emote gratuita Di MrBeast E inoltre Avete la possibilità Di pre-registrarvi Per l'uscita Su Nintendo Switch E Ovviamente Se vi pre-registrate Poi quando l'avrete Raga Regà Se potete Mi piacerebbe avere Questa streaming Un linguaggio consumo Alla fine Giocate per divertirvi Non per arrabbiarvi Dove c'è un fisio mutato Perché non lo sento Perché c'è da Mono Non mi mutare Non mi mutare Non mi mutare Ma non te muta Non te muta Mama Oh madonna Oh ma no C'ho la mano Come il put Ah regà Dove sono andato Dove sono andato A funghi No sono caduto Io sono andato Godo Impazzino Impazzisco Così poco Io impazzisco Porca puttana Pareti No Ho volato Sono andato Godo Godo Mi sono dobbato Però Non ci credo No non ci credo Impazzisco Facile Che sei qualificato Io non mi sono qualificato Io non mi sono qualificato Non ci credo Non ci siamo qualificati Sono brucato Sono l'unico Sono io Grande De Cioffi Non avevo dubbi Cioè l'unico che non cammina Si è qualificato Ehi portare rispetto Io cammino Regà ma quanto è difficile È molto difficile È molto difficile Di noi Chi sei qualificato Io e Cioffi Io e Cioffi Anche Taricone Anche Taricone Anche Taricone Anche Taricone Ma no Si chiama così Vai facciamo Io faccio il troppo I Cioffi Finalmente posso dirlo Cioffi corri Cioffi corri Bro ma è difficilissimo Io voglio la Cioffi cam Matti però dai No 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 Matti Matti cambia spettatore 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 Matti Matti È monogrammi Spettatore Ho capito Ma meno Però pure tu Tati Non glielo guidate 15 volte Me l'ha detto scusate Sì però bestemmia Ma ho capito Ma ho capito Ma vabbè Scusatemi regà Però non me lo ti 15 volte no? Simo Eh Audio Non sente passi Ma danno Gioffo Proprio i giochi tesi Le due cose Forse Ma Matti Non devi No Non devi Devi essere una personaggini Corretta Ragazzi che sto facendo? Eh no Insulti Insultando Sì Madonna Che succede? Legati Ovviamente regà Se perdete apposta Donate mille euro Per Stable Gas Questa è la finale Questa è la finale Telecamera fissa su Cioffi Matti non cambiare Aspetta Cioffi Sei già su di lui Sei già su di lui Non cambiare Cioffo smutati Sei smutato? Sì sì Vabbè ma sei fortissimo Ma c'è la Roby Ma allora appena gliel'hai detto Ragazzi è la mia fine No no Simo No Non ci credo Che è successo? Chi ha vinto? Ancora nessuno Ancora nessuno Che fai? Ti ho preso una bomba? Una mattellata? Sei più a terra che in bid No No la bomba Guardalo Guarda che sta aspettando No No Ma che brutta persona Ma che brutto messaggio Mettete il nome di Twitch come nome Io vorrei il succhetto Questo è il succhetto? Ah no Roby ma che sei matta Ma questo è un porta Un porta Questo è un serial killer Un gioco di parole Serial killer Capito? Matti Dai Matti prendi Metti i Qtlus Ho preso questa Ho preso questa Ho preso questa Fatemi fare la partita personalizzata Aspetta 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 No allora mattia Facciamo un'altra cosa Clicca Zona contaminata Aspetta raga Fatti vedere uno shop Le gemma cosa servono Scusate Ah vedi? Vedi bundle Zona contaminata Eh Scegli l'ultima Ah Tra altre cose mi sa che qua chi vince Oltre alla sub si porta a casa pure 500 gemme no? Gioca con amici Non so quale di queste però fai l'ultimo gioco No 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 in teoria dall'account in cui stiamo giocando chi vince si porta a casa 500 gemme e si prende le varianti dei luni toons Non ci credo luni toons Che sto a vedere? Dobbiamo ascoltare la bomba E' a team Che vuol dire team? E' a team E' a team Sono le squadre Sono le squadre Tu trasporti Carico E' morto Cuno deve andare a menare i rossi mi sa No vabbè non ho capito Rimani nell'aria lì Esatto Contesta ma Ho capito aspetta che mi munisco dee cose Lanciarazzi bravo lanciarazzalo Bravi L'abbiamo vinto Facile Guarda come sta Tutta l'ampnea Ogni tanto lo senti La sboccata Tossigeno Fatillo fermati E' a fumare un pacchetto di sigaretta Guardalo Guarda lo bruciato come rimane lì Guarda quello che è rimasto come il Terry Ero io No ma è vero Un'immagine terribile bro Ma bro ma Ma Emo si è comprato l'emoticon Guarda che ti hai capito No Che ti permette di avere ovviamente Impatto Ecco qua Ma qua ragazzi Invece c'è gente che si è allenata C'è qua c'è gente che sta a tryhard up col turbante Ma chi ha vinto? Ale è 97 amore mio Non c'ha la sab C'ha anche il vip bro Ale Ma quella skin ci devi di qualcosa Comunque l'emoticon sono queste qua Vedi? Vedi questa è lukazut Ma non ci sei più nella luce Devo ricaricare la carta Allora pa Praticamente Regà no questa è una cosa molto seria Mi sa che mi hanno aggherato il cellulare per la quinta volta Non è vero Non è vero Regà finiti questi La barca è affondata No Ho volato Mi piacciono la skin No No dai Dai Ciopfi Sura Non mi diametri triggerà Va beh ragazzi Ma è impossibile Ma che vuol dire? Non moda Non c'è Ci ha vinto Bravo Ciopfi bravo c'è la terza è sempre la finale come che funziona mannaggia ha fatto di molto di più campiato montatemi ma non tenuto ma tu c'è lo streamer ho qualificato signori ma te dove sei? con una parete non fia no regà vabbè ragà non è possibile mi sei buggato lì voglio ricordare la promessa che hai fatto a David ho rotto il padre no 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 la bestemmia chiedo scusa non succederà mai più regà ma la mia bestemmia non è una bestemmia di odio capito? è una bestemmia per darmi la carica alla pietra ovviamente oh mi hanno detto c'è una denuncia come faccio? un'altra va bene ma che stai scritti bravo scusami ragà siete scarsi come pochi non ci credo non riesco a prendere un cazzotto bro non ci credo molto bene molto bene buono adesso ragazzi ditemi voi come dovrebbe chiamarsi rlq maggiori di veri punto ex fammi riscatto i premi gratis fammi balla la fresca balla la fresca va sto sudando come come? ma come 5 gemme? modo che è successo? no che cosa sto vedendo? no no ragazzo non io non mori a quali sono le insidie? eh penso quelle che si è qualificato modo ma qualificato a caso? ma com'è la tua agenda? ti dillo adesso e niente oh no veramente bro mi viene voglia veramente no bro veramente consentitemi consentitemi un cazzotto e basta vado vai ciò che vai un cazzotto e basta no 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 vado bro ciao ciao ma mi capito hai fatto per la sab ma stai scherzando? non ce i soldi finisce malissimo vabbè finisce malissimo no 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 ma qui oh ho formato in a parte oh dio bro non mi sono no bro ho fatto la play ho fatto no guarda 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 no regà non è spogli dobbiamo ragazzi buttare giuro per caso ho una armia talmente grossa che mi auto infliggerei del dolore ma non lo fai se lo faccio mi bevo il liquido con una sigaretta bro stai tranquillo gioca la serie no che fai? ma che fai? mamma no mamma no idratati nel tempo libero li stai idratando? eh ma non ti sei cosa è successo? trick 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 oiello vabbè vabbè sei gugliontinato brugato ah perché hai fatto tutto da sole? hai fatto? daffy duck bromo l'ho vista daffy duck mattia contatta che sveglio eh quanto go? ah devo prender il pass? si oh lo puoi prendere? ma lo prendo subito lo prendo lo prendo subito ma quindi praticamente puoi combattere il pass e vi da subito la skin ok così puoi adesso puoi prendere adesso prendo la spesa però riscatta tutto e devi riscattare anche solo no no continuo in missioni in realtà è una cosa che dovevi fare andiamo nel vai nel negozio ah pensavo andiamo nel pass negozio se vedi adesso hai 210 nuca cole e se vai a destra eccola là eccole con le nuche cola riscattala così quando corri rilasci i tappini c'è ok adesso andiamo nel pass mattia andiamo nel pass luca cosa potrebbe andare storto effettivamente ok vimplex mattia andiamo a mettere ovviamente le nuca cola le nuca cola appena riscattato però ma guarda che bella questa leggendaria eh ma tu hai riscattato i tappini che bisogna mettere e mettiamo i tappini ma c'è quella leggendaria no la bandiera di di brasiliano scusa di chi che è non ho capito la parola bandiera nominante muo vinco io vinco io bobo vinco io moro arri verso alto ma è una finale basta come funziona ma ah ma eh sì non mi funziona il pad però l'hai rotto è la fine ragazzi credo che io finirò qui la mia avventura oddio oddio matti matti perché sei andato in diagonale ok eh no usa la fisica bravo no muo bravo no odio la mia vita no non è se così severo avrei perso comunque chi ha vinto chi ha vinto non io offi è l'unico che sta zitto no simone tocco muo vinco vinco io vinco io bobo perché giochiamo in 8 se possiamo giocare in 32 per provare la modalità per vedere tutte le modalità del gioco è molto divertente sì comunque sono veramente scarso questo gioco cioè non ci crederete mai no no ci crediamo a voglia va bene ok metto l'anello bro l'hai voluto tu metto l'anello vai 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 mi posso qualificare una volta tatì tatì per favore una volta cioè una volta primo sono arrivato primo sì no non cadere guardalo pirupì va pirupì va no io l'ho dato un cazzotto eppure ma è fighissimo sto stage è bello da vedere ciò fo ma sei un fenomeno ma che signora che può fare alzato come le bestie ciò fo no vabbè non ci credo ma l'ho visto ma sei un fenomeno sei tutto bello un criccagnato stai eh il colonnello ragazzi miei non è mai stato così competitivo bro sta con un turmante ma che sto vedendo ma non ci credo non ci credo guarda mamma yes yes sì non ci credo sì sì ho mai bacato i giochi ha dato tutto se stesso che vincere la partita a stumble guys ragazzi ninja simo ha passato la sua esistenza su questo gioco altrimenti non si spiega ma matti ne ha passato di più bro tu ti rendi conto che non stanno sbagliare ragazzi questo è un'altra cosa sono bravi di quasi quanto me che così ha fatto tutta la mappa fuori mappa una rabbia dentro stasera guarda che hai detto c'ho c'ho una rabbia dentro c'ho capito posso ricordare della vita cattillo non deve essere una tua ragione di vita ti ha vinto matt 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 ma è un fallo di lavoro diventa un pro player di stanball guys amore e bev vince i soldi rappresenta l'italia Grazie a tutti.